eccoci qua ragazzi benvenuti sul mio canale youtube possiamo il libro la cucina sanita vi mostro il mio ultimo acquisto laser e spire 3 andiamo ad aprire ovviamente il computer non capendo né niente io di configurazione è già pronto all'uso cioè stato configurato da media service l'azienda dove l'ho comprato media service è un'azienda quindi del sanno che si occupa di tecnologie quindi assistenza al alle aziende assistenza sopra i computer e sopra gli altri apparecchi informatici e in più fanno anche stampa 3d eccolo qua a c'è espire 3 i7 caricamento velocissimo espire 3 hd i7 adesso ve lo spengo quindi c'è poco a dire ragazzi è un computer veloce di nuova generazione vi rimango i link in descrizione del prodotto è il link dell'azienda quindi se avete problemi con il computer a me di recente durante il coronavirus quindi il mio mac aveva dei problemi cui mi sono stati risorti dall'azienda media service a distanza cioè sono entrati nel computer hanno visto loro qual era il problema e in pochissime ore mi hanno risolto quindi è il problema io in realtà prima stavo cercando io di fare di vedere di aggiustare ma in realtà ho peggiorato soltanto il il problema cercavo di vedere delle vite dei video su youtube come capire che cosa teneva il mio problema ma in realtà ho soltanto perso tempo li ho contattati mi hanno risolto velocemente il problema il computer è tornato operativo ecco qua ricosiamo il computer in questo è lo scatola non mi ricordo se ve l'ho già mostrato comunque vi rimango sotto in descrizione le caratteristiche del prodotto mi vedo un po con le caratteristiche comunque sono andata da colpo sicuro perché mi fido dell'azienda quindi di media service e so che il prodotto è buono soltanto per voi quindi vi rimango delle caratteristiche del computer e il sito web di media service quindi se qualcuno ha dei problemi oppure deve fare qualche acquisti dato lo smart working e il pro cieli i processi di digitalizzazione ciao ragazzi ci vediamo nella prossima diretta ciao